Senta, invece le volevo chiedere se c'è un inteso per quanto riguarda le regionali e soprattutto la Sardegna. Vedremo su questo. Al momento mi sembra che non ci sia, però sul territorio hanno fatto una scelta. La rispettiamo, andiamo avanti e vediamo. Io spero che il centro-destra sia unito come sempre. Lavoreremo per questo. Fratelli d'Italia non indietreggia sul nome del sindaco di Cagliari. Guarda, è un nome che viene fatto dalle liste di centro-destra del territorio. Sono riniti, hanno fatto una riunione, a stragrande maggioranza hanno scelto che il candidato fosse Paolo Fruzzo. L'altra volta noi a quella riunione non eravamo convinti della candidatura di Solinas, però poi ovviamente ci siamo adeguati e a una riunione simile che era stata fatta cinque anni fa abbiamo sostenuto Solinas. Così si fa alle riunioni normalmente. Ma cinque anni fa era un altro partito per l'Italia, adesso è tutta altra cosa. La coalizione è sempre la stessa, è una coalizione forte che rimane compatta e che prova sempre a vincere insieme. Grazie.